Buonasera a tutti, benvenuti a questo importante incontro, questa cerimonia, è certamente un momento di festa estremamente rilevante per tutti quanti noi, è dentro un giorno di festa perché oggi comunque è anche il giorno di inaugurazione del 775esimo anno accademico quindi all'interno di una festa più grande c'è anche questo momento che mi sembra che sia per tutti quanti molto bello. Allora per celebrare abbiamo pensato di fare riferimento a un argomento che penso che sia tipico del mondo universitario, cioè come sappiamo tutti le nostre attività vedono dei momenti di celebrazione, dei momenti di festa nei quali si indossano capi particolari tipo le toghe o i tocchi. Allora questa tenava una lunga tradizione di utilizzo dei tocchi, basta pensare che già nello statuto del 1591 si faceva riferimento appunto a questo complicato. Però quelli che sono gli attuali tocchi furono introdotti con moto proprio dal gran buccano foto secondo di Lorena nel 1843 e proprio allora fu introdotto il fatto che i professori avessero questi tocchi con un gallone d'oro e poi invece avessero uno con due galloni d'oro. Solo per chiudere volevo dire che siamo tutti qui perché abbiamo una grandissima passione, chi lavora all'università lo fa per passione perché ci piace studiare, approfondire, trasmettere la conoscenza e credo che sia proprio un lato caratterizzante di chi si impegna così tanto, la passione. Quindi spero e sono sicuro che tutti manterranno questa passione e continueranno a contribuire con quello stesso impegno che hanno contribuito finora. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a tutti.